affitti in provincia di lucca sono numerose le richieste di persone che cercano una locazione lunga ma di fronte a tante domande le offerte scarseggiano anzi in certe zone della provincia sono pari a zero si tratta di una vera e propria bolla immobiliare che già ora porta a gravi problemi per famiglie e lavoratori che nonostante una buona disponibilità economica non trovano niente sul mercato eppure secondo la regione toscana il 30 per cento degli immobili sul territorio della provincia di lucca sono sfitti ci siamo rivolti a voi per capire quali sono i motivi per cui ad oggi trovare una casa in affitto a lucca è quasi impossibile sì ora devo dire che il problema non è soltanto legato a lucca e non solo neanche alla provincia di lucca ma è un problema generalizzato certo nelle città turistiche nelle città d'arte questo fenomeno è particolarmente diciamo grave e sta peggiorando nel corso del tempo i motivi sono diversi ci sono dei motivi di carattere strutturale che sono legati al fatto che in questo paese non si investe più nell'edilizia sociale da tantissimi anni non ci sono case a disposizione per gli affitti nonostante che per esempio negli ultimi anni siano aumentati i contratti di lavoro a tempo determinato nell'ultimo periodo la situazione si è aggravata anche in virtù del fatto che con l'espansione senza controllo ormai degli affitti brevi turistici dagli airbnb e non soltanto molti alloggi sono stati tolti dal mercato diciamo delle locazioni lunghe e per essere destinati a questa tipologia di affitto e questo provoca anche un effetto diciamo ulteriore che è quello di tendenzialmente aumentare i canoni d'affitto e quindi in generale a drogare un po anche il mercato il mercato degli affitti nonostante un'ampia disponibilità perché la regione toscana calcola che nella provincia di Lucca siano tra il 25 e il 30 per cento gli alloggi sfitti ci sono alcune città che però hanno limitato questa possibilità di affitti di affitti breve Lucca potrebbe percorrere questa strada c'è un tentativo che va in questa direzione per esempio il comune di Firenze con una recente delibera della alla fine del 2023 sta provando a mettere degli argini dei paletti all'abuso di questi di questo fenomeno che ha come effetto negativo di svuotare le città di farle diventare dei dormitori per turisti quindi con delle ricadute anche sul tessuto economico un tentativo in questa direzione anche nei comuni turistici come certamente può essere Lucca dovrebbe essere tentato scontando chiaramente la reazione e i ricorsi che come a Firenze possono possono avvenire però questo dovrebbe essere secondo me una un'impostazione una scelta che che discenda anche dal livello nazionale e quindi il punto non è demonizzare ma il punto è regolamentare